Qualcosa di rosso, drappi, fazzoletti, accessori, per dire in modo inequivocabile, con il colore del sangue e del fuoco, basta. Basta ai femminicidi, basta alla violenza contro le donne. Bari come Taranto, come molte altre città della Puglia, d'Italia e del mondo, si sono tinte di rosso nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ieri pomeriggio, a conclusione della settimana di iniziative Generare culture non violente, promossa dall'assessorato comunale al welfare e dall'ufficio regionale del garante dei diritti dei minori e condivisa con circa 70, tra associazioni, enti e istituzioni, donne ma anche uomini, si sono dati appuntamento in piazza Umberto per sfilare in corteo. La stessa piazza barese è stata teatro della performance itinerante Spose di pace, un'installazione di abiti da sposa in ricordo di Pippa Bacca, l'artista milanese assassinata nel 2008 in Turchia durante la performance itinerante Spose in viaggio, con cui si proponeva di attraversare in autostop 11 paesi teatro di conflitti armati, vestendo un abito da sposa per promuovere la pace e la fiducia nel prossimo. Anche a Taranto la giornata contro la violenza sulle donne si è tinta di rosso, a corollario dello sciopero inscenato davanti alla prefettura dalle donne dei vari settori aderenti ai Cobas, donne che rischiano di perdere il lavoro e con esso quell'autonomia economica che rappresenta la via per la libertà per molte donne maltrattate e abusate in famiglia. È uno sciopero storico, mai in Italia fino ad oggi c'è stato lo sciopero delle donne, tant'è che lo sciopero dell'Italia è arrivato anche a livello internazionale per la sua importanza. La forma dello sciopero è proprio per due ragioni, per rendere le donne protagoniste, perché oggi si faranno tante iniziative ma che parlano sulle donne. Il nostro problema non è che altri parlino sulle donne ma che siano le donne a lottare e a ribellarsi. L'altra questione dello sciopero è che la lotta pesi, pesi nelle fabbriche, pesi nelle scuole, pesi anche nelle case.